Carta Ufficio, prodotti di cancelleria Il negozio si occupa della vendita di prodotti di cancelleria sia al dettaglio che all'ingrosso con la fornitura a enti e uffici di prodotti per informatica, moduli continui, toner e cartucce per stampanti Carta Ufficio, nel centro di Messina, dispone di una vasta gamma dei migliori prodotti di cancelleria presenti sul mercato Carta Ufficio si trova a Messina, in corso Cavour 214